Allora, oggi sono a parlarvi del kit del piccolo trombatore Anche dall'italiano all'inglese perché mi sembra giusto che gli amici che non parlano italiano sappiano che nel mondo bisogna andare attrezzati per andare nei bordelli con il kit del piccolo trombatore Ecco qua, abbiamo il beauty, eccolo qua Un bel beauty e andiamo a vedere cosa c'è dentro Prima di tutto, un bel chili antibatterico per evitare piatto, le creste di gallo e scuola Per evitare creste di gallo, piattole e compagnia bella, insomma In mancanza di acqua possiamo lavare la patatina con le salviette a mochina Qua magari possiamo trovare anche una passera che non si bagna, qui abbiamo l'olio Durex, gel della Durex Poi, dopo si può cominciare ad avere un rapporto, diciamo così, sessuale Ma cosa succede? Può succedere che magari questa qui non è stata lavata bene, disinfettata bene Dunque, succede che uno gli piglia un rossore, l'impiammazione della gola Bene, abbiamo qui Gola Si, per eliminare i germi dal cavo orale, magari uno ha avuto un rapporto orale e dopo si trova tutto incasinato Poi, magari può avere un herpes, eccolo qua, abbiamo lo Zovirax Eccolo qua, lo Zovirax E poi il top, magari questa ha la candida C'ha una candidosi Oppure c'ha anche un'infiammazione vaginale Ecco che il pisello si irrita Now, if your cock has some irritation, we have the cream Gentle in Beta For the English people, the cream is E45 Eccolo qua, il Gentle in Beta Da dare sul pisello, dopo averlo lavato, per evitare possibili... Do you give the cream on your cock? Cioè, alcuni consigliano il Cadestan, ma io ho provato, non funziona Meglio in assoluto è questo, il Gentle in Beta, perché è cortisonico Dopo questo, potete andare con questo set Ah, i preservativi ragazzi, non mi scorderò mai di dirlo Mi raccomando Mi raccomando ragazzi Non comprate i preservativi lisci Che non sono buoni a niente Non sono buoni a nulla Ma bisogna Comprare i preservativi irrigati Possibilmente con tatto Per il fatto I must buy the condom With the little things on the condom For give more... For stim... Give more... For stim... Stimulation to the pussy Bravo! Stimulation the pussy E stimulation... Di collo di papero Mentre... Ok, this kind of movement in Italian means... Cock Ok, il trunk the duck Allora... Bisogna anche capire perché Perché succede A quelli che sono inesperti Che i preservativi lisci hanno un problema Siccome l'uomo non sente niente Allora pigia di più Facendo anche del male alla ragazza Invece... Invece... Invece con quelli irrigati Non si incorre in questi rischi Invece... Invece... With the... Condom... With the... The little things on the... On the top You have not this kind of problem Bene... Allora con tutto questo ambaradà Potete andare tranquillamente A trombare in tutti i bordelli del mondo Now... We have all ambaradà You can go everywhere in the world For fuck Ripeto... Chili per lavarla se c'è... Se siete in albergo 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 Servietta mochina Nel caso non ci sia acqua La potete lavare a secco Ammochina... Ammochina... Ehm... Pissue... For clean the pussy Gel... Durex... Se non si bagna Gel... Durex gel... If the... You can find some girl With dry pussy Sciacqui per la gola Iodo zangola Delubrication... Delubricating... Gel... I'm sorry my friend I'm sorry... I'm not expert with... Like my brother Poi abbiamo anche... Ripeto... Qui per sciacquare la gola Iodo zangola Iodo zangola Abbiamo lo Zovirax Per herpes Zovirax cream E il famoso gentle in beta Per il... Il... Il pisello a cappuccetto rosso The gentle in beta Per the... How you call... Man... The cock... The cappella Sì che ragazzi è estate Io ora vi saluto Il video l'ho fatto Voi ho avvisato Per non prendere piatto Le creste di gallo E scolo E roba varia Siete tutti come topi nel formaggio Ok... Thank you very much Bye Bye